L'Ambretto nasce tra le fabbriche dismesse dell'Ambretto milanese e le cattedrali andaluse. Dal 2008 ci occupiamo di progetti di arredamento interni e grafica. Lavoriamo con materiali di recupero e materiali tradizionali, cercando di utilizzarli in modo innovativo. Nei nostri progetti si legge l'attenzione per i temi della sostenibilità ambientale e la ricerca per una pulizia formale delle linee pulite. Il concorso Design richiedeva un concept originale per l'uso di nuovi materiali o l'applicazione inedita di materiali tradizionali. Il processo progettuale parte quindi dal materiale e non dall'oggetto. Concrete Clothes è un'innovazione ideata dall'azienda Concrete Canvas, un'azienda inglese, che permette al cemento di essere utilizzato in un modo completamente nuovo. Inizialmente è stato sviluppato per realizzare rifugi in caso di emergenza, quindi per realizzare velocemente dei rifugi che richiedevano solo acqua e aria per la costruzione. E' un tessuto flessibile impregnato di cemento, che quando viene idratato indurisce e forma un sottile strato di cemento durevole e impermeabile. Ci siamo lasciati ispirare dalla caratteristica fondamentale di Concrete Clothes, ossia quella di trasformarsi con la sua aggiunta di acqua. Come la pianta in un vaso ha bisogno di essere annaffiata per crescere, così Concrete Clothes deve essere annaffiato per assumere le sue qualità estetiche e funzionali. Per la realizzazione dei vasi ci siamo ispirati alla tecnica della corda, un antico metodo di costruzione delle giare in terracotta, che consisteva nell'avvolgere una corda di canapa attorno alla struttura in legno, sulla quale veniva poi colata l'argilla. Allo stesso modo, i vasi Concrete Pots sono un lungo nastro di cemento che andiamo ad arrotolare attorno alla struttura in HidroLab. L'HidroLab è un pannello intrusciolare ecologico realizzato al 100% con legno post-consumo. Il processo artigianale di realizzazione del vaso fa sì che l'oggetto possa essere proposto come un kit di montaggio, col quale ognuno può creare il suo vaso e si può confrontare col materiale per apprezzarne le qualità e le peculiarità. Così si ottengono delle forme uniche e ripetibili che sono definite dal fruttore stesso. Questo progetto porta il cemento al di fuori del cantiere, lo porta nelle nostre case, nei nostri giardini e dona una nuova valenza estetica a questo materiale. Dalla collaborazione con l'azienda Gervasoni è nata una serie di vasi e portavasi con un aspetto fortemente materico e dalle marcate sensazioni tattili.